Dobbiamo vivere questo Capodanno in maniera serena, felice e proprio per questo dobbiamo cercare di evitare assolutamente i botti, perché purtroppo questi determinano incidenti e sono prodotti che al di là di quello che possa sembrare con tutta l'esperienza che una persona può vantare sono prodotti assolutamente incontrollabili e quindi l'infortunio e l'incidente è sempre dietro l'angolo. Comandante è un momento anche emozionante nel suo discorso, un momento per incontrare i suoi uomini a ridosso delle feste natalizie insieme anche alle loro famiglie ovviamente. Sì, diciamo che innanzitutto è stata un'occasione per ringraziarli, perché quest'anno è scorso per fortuna anche perché gli eventi ci hanno aiutato, non abbiamo avuto grosse criticità dal punto di vista del soccorso, però tutto quello che abbiamo affrontato, e sono stati circa 7.000 interventi, sono stati affrontati nel miglior modo possibile, soprattutto non abbiamo avuto un numero significativo di infortuni in servizio, già questo è importante per il lavoro che facciamo. Abbiamo portato a termine in maniera più che efficace i nostri interventi, quindi è stato un anno da questo punto di vista positivo. Poi ci siamo anche spesi nell'organizzazione di eventi, abbiamo avuto questo evento nazionale che si è svolto l'8 dicembre, e quindi, ripeto, abbiamo anche voluto dare un significativo omaggio ai bambini avellinesi con il camion dei vigili del fuoco luminoso, che sicuramente sta suscitando tanto interesse da parte dei bambini.